La Lega Fano scende in campo con una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore e vice sindaco Cristian Fanesi. Durante una conferenza stampa tenuta in modalità online, gli esponenti locali e regionali del partito hanno illustrato le grave carenze emerse in questi ultimi anni, in particolare da parte dell'assessorato all'urbanistica. Diverse le questioni contestate, dall'impianto di sollevamento delle acque meteoriche in Piazza Lamedola, che non è ancora entrato in funzione dopo oltre 1180 giorni dall'inizio dei lavori, all'adozione del nuovo PRG, prevista entro il 2020, ma che invece non ha visto ancora l'avvio dell'iter procedurale. La Lega punta il dito anche contro le inadempienze legate allo Stadio Mancini, che hanno provocato l'esclusione dell'Alma dal campionato di Serie C, e il progetto definitivo degli interquartieri, cioè la variante di Gimarra, per la quale non ci sarebbero nemmeno i dati per far partire un dibattito adeguato, con il rischio di perdere 20 milioni di euro, come previsto dal protocollo di intesa con la Regione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mancata partecipazione al bando regionale, grazie al quale il Comune avrebbe potuto reperire finanziamenti fondamentali per le scogliere di Sassonia, ma anche qui, a detta del partito, Fanesi non è stato capace di cogliere l'opportunità nei tempi e nei modi previsti, perché il suo assessorato non ha inviato correttamente una PEC. Questa decisione è stata presa in questo momento in cui la maggioranza è spaccata e in cui praticamente lo stesso partito di appartenenza dell'assessore Fanesi lo ha sfiduciato. Noi ci aspettavamo che il sindaco prendesse le dovute decisioni, e cioè che accettasse questo cambiamento, perché l'assessorato di Fanesi in questi due anni e mezzo non è stato all'altezza dei compiti che doveva svolgere. Ci sono delle opere che sono rimaste incompiute, che sono ancora in attesa, ed è inaccettabile che ancora non siano state concluse. Se il passato prefigura il futuro, non siamo messi bene, ha proseguito Scoppellitti, non possiamo assistere a questo immobilismo. Come si fa ad essere così inadempienti e inadeguati su cinque punti così importanti, e che su invece l'onorevole Mauro Lucentini, commissario provinciale della Lega, come quando in una squadra che non funziona e si prendono gol in continuazione, si manda via l'allenatore, ha detto, nell'assessorato si cambia l'assessore, in questo caso Fanesi, che per Lucentini dovrebbe dimettersi prima della votazione della mozione. I dati sono inequivocabili, ha poi aggiunto il consigliere comunale Gianluca Elari. La città negli ultimi anni non è proprio stata amministrata e questo può portare un danno economico e di immagine. Abbiamo delle sfide importanti da affrontare, ha concluso Luca Serfilippi, e in un momento storico come questo ci devono essere le persone giuste al posto giusto. La barca sta affondando, ha fermato il consigliere regionale e comunale e a farne le spese. Sono i cittadini che non si meritano un'aggiunta litigiosa e senza un'idea concreta di sviluppo della città. Quindi speriamo che questa mozione venga accolta e soprattutto vogliamo ribadire il fatto che come opposizione noi pensiamo che sia più importante pensare al bene e all'interesse dei cittadini piuttosto che al mantenimento dello status quo, della spartizione delle portone e del potere.